Da un ettaro e tanta passione a realtà più grandi in cui per restare competitivi servono idee e innovazione. In questa azienda agricola che produce cereali a Gualtieri in provincia di Reggio Emilia, i trattori viaggiano senza guidatore, controllati da remoto dalla titolare che dal suo tablet monitora 450 ettari di terra, vigilando sullo stato di salute delle culture. Tutti i nostri mezzi sono forniti di sistemi satellitari. Diamo il concime al punto giusto, nel momento giusto, non avendo sprechi. Non abbiamo sprechi a livello ambientale perché naturalmente il concime che diamo le nostre piante lo assorbono tutto. Non andiamo a disperdere concimi fertilizzanti nell'ambiente. Una gestione innovativa e razionale, che oltre a rappresentare un vantaggio per l'azienda, si traduce in un minore utilizzo di acqua, bene e sempre più prezioso e da preservare. Col controllo satellitare dal satellite abbiamo la possibilità di controllare l'evaporazione dell'acqua, quindi noi sappiamo quando andare a irrigare e come irrigare. Quindi non abbiamo neanche consumo di acqua, in quanto noi mettiamo l'acqua giusta nel momento giusto. Le nuove tecnologie adottate da queste eccellenze agricole consentono infatti di conoscere lo stato di salute del terreno, riducendo l'impatto ambientale. I nostri mezzi sono anche dotati di laboratori mobili, quindi metro per metro noi conosciamo in tempo reale quanto stiamo producendo e la qualità del nostro prodotto. Sensori e droni sono destinati anche a controllare le coltivazioni e le produzioni in tempo reale, per intervenire in modo mirato. La rivoluzione, nel segno di un'agricoltura 4.0, consente ai coltivatori di rendere i metodi agricoli non solo molto più rapidi, efficaci e sostenibili, riducendo i costi, ma aumenta anche la garanzia della genuinità del prodotto e la sua tracciabilità. Mettere la robotica al servizio del benessere degli animali è l'obiettivo di questo giovane allevatore di Cambiago alle porte di Milano, che produce formaggi e latticini e utilizza un vero e proprio robot per dare il mangime ai bovini, secondo precisi criteri nutrizionali. Queste mucche hanno una dieta personalizzata, studiata per loro da un alimentarista e il benessere degli animali si riflette sul prodotto di alta qualità. Noi siamo seguiti da un alimentarista che ci calcola tutte le razioni in base a tutte le fasi di crescita dei bovini, dai piccoli, dalle manze fino al gruppo di lattazione. Questo robottino somministra in modo completamente autonomo la razione alle bovine. Quindi c'è anche un controllo poi di come, di quanto gli animali devono mangiare? Sì, assolutamente. Assolutamente perché ha delle celle di carico che pesano ogni ingrediente e permettono, in base a una razione pre-programmata nel software, gestito da computer e dà tutto l'equilibrio necessario alla razione delle bovine. Questo che vantaggi gli dà? Dà vantaggio all'operatore che sgrava notevolmente il lavoro e ha dei vantaggi sugli animali in termini di benessere e che si traduce poi nella qualità del latte.